Musica Ospite dei nostri studi Salvatore Monte che salutiamo e ringraziamo per aver raccolto il nostro invito. Monte, consigliere comunale di Sciacca al centro ma anche ex assessore, quindi amministratore del comune di Sciacca. Comincerei naturalmente con una riflessione sulla situazione politica, questa degli ultimi giorni, che ho visto proprio sulla poltrona dove oggi è seduto lei l'ex sindaco Fabrizio Di Paola a dire delle cose rispetto a quanto avvenuto prima dell'emergenza coronavirus. Mi riferisco al dibattito sulla mozione di sfiducia. Di Paola ha detto che in buona sostanza i Cusumaniani si erano impegnati a sostenere la mozione di sfiducia, nel caso in cui però questa fosse stata firmata da tutti i consiglieri comunali di opposizione, sappiamo che così non è stato, però i Cusumaniani hanno reagito, replicato in maniera piuttosto dura accusando Di Paola. Lei, insomma, si dice che lei sia stato anche al centro di questa discussione, un po' una specie di mediatore. Insanto qual è la sua riflessione? La mia riflessione è che in questo momento in città non esiste la politica. Noi siamo in uno stato che io preferirei definire ghiacciato, cioè siamo completamente sotto ghiaccio perché non esiste il dibattito. Io facevo una riflessione anche con gli amici dicendo che ogni giorno noi tempestiamo di note, interrogazioni, ma che ormai hanno lasciato il tempo che trovano perché manca il dibattito politico e manca soprattutto, lo dico facendo anche mia colpa, un livello della politica che non è più quello di una volta. Cioè qui si preferisce dialogare sulle banalità piuttosto che guardare alle vere esigenze della città. Perché questo succede? Perché secondo me mancano anche quelle figure di spessore che riuscivano a trainare. Perché oggi non esistono più i partiti, perché oggi non esistono i coordinatori dei partiti, perché oggi non ci si riunisce prima di prendere una decisione. Lo vediamo anche tra i consiglieri comunali, questi arnesi hanno trasformato il mondo, oggi si ragiona su WhatsApp, non c'è più il contatto ed è un guaio. Sembra che lei abbia 60 anni. No, non sembra che lei abbia 60 anni, però mi rendo conto che il contatto nelle cose ha una priorità diversa. Cioè il dibattito anche all'interno di chi fa opposizione deve essere più fluido, però tra gli impegni, tra la vita che ormai è diventata un continuo correre, ci porta comunque a non essere diciamo sempre preparatissimi su tutto. Sulla fattispecie qual è la sua? Sulla fattispecie su tutto, anche i lavori consigliari di un consiglio comunale che diciamolo ormai non esiste più, chiaramente andrebbero fatti in maniera un po' diversa. Noi invece ci vediamo quando capita un giorno prima per tentare di capire anche un po' quali sono le strategie, poi si arriva in aula e chiaramente per una serie di cose, perché reputo, lo dico senza problemi, che in questo momento la gestione da parte del Presidente non è una gestione sana, nel senso non che commetta cose errate, però non c'è più vitalità dentro il consiglio comunale. Quindi a cascata tutti precipitiamo nel disinteresse. Poi ho sempre lamentato il fatto, ad esempio, di questi punti che arrivano all'ultimo minuto, non hai il tempo di studiarli perché c'è l'urgenza e quindi ti ritrovi con la corda al collo, perché se non li approvi rischi di mettere in difficoltà tizio Caio Sempronio, come avvenne con gli LSU quando fu del bilancio dello scorso anno. Caso Cusumano? Caso Cusumano, devo essere molto sincero. Io ho sentito la replica, perché ho visto l'intervista dell'Avvocato Di Paola e chiaramente sono emerse alcune cose e poi ho visto la replica, la quale credo che vadano puntualizzate alcune cose. Secondo me la parte di Italia Viva è stata legittimata dal popolo a governare. Le scelte interne a me non interessano. Io sono stato legittimato dal popolo, ahimè, anche se noi abbiamo fatto una buona campagna elettorale e abbiamo messo in campo tutte le forze per poter vincere, ma ahimè non ce l'abbiamo fatta. E ha legittimato a fare opposizione a me, ma la parte di Italia Viva è legittimata a fare il governo della città. Se poi si entra e si esca dal comune di Sciacca come se fossimo nella holla di un albergo con la porta girevole all'ingresso, quello è un problema loro e non nostro. È chiaro che quando c'è stata la mozione di sfiducia è innegabile che ci siano stati dei contatti. Contatti che chiaramente nascono dall'esigenza numerica di raggiungere l'obiettivo. E dice bene Fabrizio quando dice che in quel momento era la soluzione richiesta a gran voce da tutti. Perché la mozione di sfiducia non è uscita fuori da un pezzo dell'opposizione. Io vi ricordo che i primi a parlare di mozione di sfiducia furono i grillini. Noi ci siamo accodati successivamente e abbiamo condiviso la scelta perché era una scelta intanto contro nessuno, perché qui non c'è contro il sindaco, contro l'assessore, ma è contro una macchina amministrativa che in questo momento fa acqua da tutte le parti. Dall'altro lato dico però che ci sono stati dei contatti che molto probabilmente però volevano per una determinata parte politica, in questo caso di maggioranza, guardare al futuro con serenità. Quindi probabilmente c'era la volontà da parte di quella frazione politica di riferimento all'Italia Viva di guardare al futuro con maggiore certezza e con la serenità che a prossime competizioni elettorali si potesse essere in un contenitore tutti insieme. Certezza è che a due anni in questo caso o comunque sotto mozione di sfiducia nessuno avrebbe potuto dare. Sotto mozione di sfiducia forse sì. Sì e no, perché in un momento di difficoltà non si pensa proprio a quello che succede il giorno dopo. Perché Cusumano precisa di non avere mai sostenuto l'ipotesi di votare? Ma io non credo che sia assolutamente così e mi permetto di dire che non è così. per il semplice fatto che degli agganci verbali ci sono stati. Anche con lei personalmente mi risulta. Anche con me, non lo nego assolutamente, perché in politica si parla con tutti. Io mi ritrovo magari a fare battaglie politiche con persone che ieri erano assolutamente contro di me. Non cito esempi perché sono talmente tanti che faremmo notte. Però poi vanno dette le cose esatte. Nel senso che una cosa è dire io sono disponibile a fare l'assessore, una cosa è aver detto sei disponibile a fare l'assessore. Le due cose vanno equilibrate. E sinceramente mi dispiace perché di quella nota politica la cosa che mi fa maggiormente innervosire è una frase che voglio riportare. La frase è, dai consiglieri di opposizione, a partire da quelli che si lasciano andare giornalmente in quelle che vengono definite arroganti e destruttive prese di posizioni contro il sindaco con maldestra esternazioni di odio e di ripicca. Consiglieri che sarebbero stati disponibili ad entrare all'interno dell'amministrazione. Quindi io sarei un pazzo psicopatico. Mancava solo il nome. O i nomi perché probabilmente siamo più di qualcuno. Quindi io faccio opposizione però voglio fare l'assessore. E quindi continuo a fare opposizione. Il ragionamento non sta in là. Allora io dico, prendessero una decisione e decidano quello che vogliono fare. Perché parlare ancora oggi di punti programmatici a meno di due anni dalla fine della consigliatura mi sembra sinceramente un po' esagerato. Se non si ha l'agenda programmatica a metà e mezzo di quella che è un'esperienza amministrativa vuol dire che stiamo parlando di altro. Ora, la gente si è scocciata. Il primo che si è scocciato sono pure io. Perché non mi nascondo, l'ho scritto l'altro giorno in qualche esternazione che questo ruolo è completamente svilito. Però chi è stato eletto per amministrare deve amministrare e se ne assumere responsabilità. Chi è stato eletto per fare opposizione, almeno per quello che mi compete, l'ho sempre detto, sarei rimasto in opposizione, anche perché io per cinque anni sono stato stracriticato da quella parte politica. Mi sono state attribuite tutte le colpe del mondo. Forse l'unica esclusa è l'estinzione dei dinosauri. Per il resto poi diciamo... Lei stesso dice oggi mi ritrovo a condividere delle opinioni con persone con cui ieri eravamo avversati. Certo, ma i percorsi si costruiscono. Io faccio un esempio. Noi oggi abbiamo rapporti in Consiglio Comunale con due soggetti usciti dalla maggioranza, che sono la Sant'Angelo che ha la prima esperienza, ma la Deliberto che ha la seconda esperienza. Con la Deliberto vi ricordo che le interrogazioni durante il periodo della nostra amministrazione erano una ogni giorno ed erano roventi. Oggi ci troviamo a costruire un percorso di opposizione insieme. Allora, mi scusi, riepiloghiamo. Lei ha incontrato il senatore Cusumano per parlare di mozioni di sfiducia? Ci siamo incontrati, ma non solo io probabilmente. Avete parlato di mozioni di sfiducia? Abbiamo parlato di mozioni di sfiducia, assolutamente. Ma si assume la responsabilità di questa sua... Ma si assume perché non c'è... Come loro dicono che non c'è stato... Ma non c'è niente di male. E io penso che non sia stato l'unico consigliere comunale ad essere incontrato. Quindi si è stupito lei che i Cusumaniani abbiano detto... Ma io mi stupisco per il semplice fatto che guardiamo per un attimo alla città. Cioè la via di fuga non è noi vogliamo riunire il centrosinistra guardando a tre punti programmatici. A me interessa vedere qual è il futuro della città. Perché se io faccio opposizione non sono un pazzo scatenato che ho disinteresse per la mia città. Però lei non può negare che nel dibattito con Italia Viva all'interno del vostro schieramento ci siano state posizioni di prese di distinguo molto nette. Certo. Soporti che per carità di Dio possono anche essere condivisibili. Ci troviamo nel sottoscala. Non siamo considerati. Stimolano nell'opposizione la possibilità di intravedere il raggiungimento di un traguardo numerico che possa far passare alla mozione di sfiducia. Altrimenti ci lamentiamo inutilmente. Siccome credo che stiamo discutendo di politica, di città, di futuro, di una comunità. Discutere chiaramente di... Diciamo col famoso come suol dire il siciliano Casennesci. Credo che non faccia bene a nessuno. Lei lo ammette però che se voi foste stati più uniti come schieramento le cose magari... Ma io non nego che noi abbiamo avuto un momento serio di difficoltà interna. Serio di difficoltà interna non per mancanza di volontà o per litigi tra i componenti dell'opposizione, ma per un'assenza probabilmente di regia. Nel senso che c'è la necessità tutt'oggi di avere anche delle guide che siano all'esterno dei gruppi consigliari. Perché io non nascondo... Fabrizio De Paola non lo è? Fabrizio è una persona che senza ombre di dubbio quando si ha un quesito c'è la necessità è una persona che sa tutto. Però io non nascondo ad esempio che in consiglio comunale quando io mi sedetti il primo giorno è chiaro che dietro di me c'è Calogero Bono che ha avuto un'esperienza di presidente del consiglio e consigliere comunale è chiaro che se ho dei dubbi sull'andamento di una seduta consigliare mi giro e chiedo com'è giusto che sia. Però molto spesso non basta perché siamo tanti, siamo otto o nove, ma ognuno ha la sua, non dico la sua storia, che è una frase che odio perché qua tutti hanno la storia. Qua bisogna dire che hanno dei riferimenti all'esterno e un gruppo. C'è Calcentro un'associazione politico-culturale che ha un suo direttivo, un suo presidente, un suo portavoce. A Fabrizio abbiamo una squadra che io devo rispettare, alla quale devo andare incontro e devo fare le loro istanze che devono diventare le mie priorità. Non sto navigando da solo. Lei sa che la politica è il mondo dove i segreti di Pulcinella sono al centro dell'attenzione tutti i giorni. Si è detto anche che lei comunque sarebbe stato in procinto al centro di una trattativa per poter entrare all'interno dell'amministrazione come assessore. Io personalmente non ho mai dato nessuna disponibilità a diventare assessore di questa giunta. per il semplice fatto che io sono opposizione. Opposizione fatta non come all'inizio, perché io riconobbi i miei errori. All'inizio probabilmente non abbiamo sparato troppo a zero sul personale e poco sugli obiettivi e sulla produttività dell'amministrazione. E lì abbiamo raddrizzato il tiro, il primo io ed è giusto che sia così. Dall'altro lato io vengo però da un'amministrazione che ha governato per cinque anni con le idee che sono state criticate. E chi ha amministrato non può entrare in un'amministrazione di un carattere politico diverso, di un colore politico diverso, adeguando le proprie idee agli altri. Perché le mie idee di ieri continuano a essere le idee di oggi. Io non cambio opinioni sulle cose. E dico, magari in questo sarò forse troppo inquadrato. In America succede. Nelle amministrazioni repubblicane entra un democratico e viceversa. Però qui non si è creato secondo me il rapporto. Questa consigliatura ancora non è decollata. Lei ci ha discusso con la Valenti per entrare in giunto oppure no? No, io non l'ho discusso con la Valenti. Noi abbiamo avuto con la Valenti un chiarimento anche di carattere personale che non nego. Sul tipo di opposizione. Sul tipo di opposizione. Perché credo che alla fine, cosa che lamentavo anch'io, attenzione, il rispetto personale deve essere alla base di tutto. Infatti se voi vedete il tenore delle nostre note, è un tenore che comunque colpisce, se deve colpire ovviamente non sempre, il modus operandi di fare politica e di amministrare la città. Poi a me del personale credo che ognuno di noi sia assolutamente degno del massimo rispetto altrui. Non si può scadere in cose che non hanno completamente senso. Lei ci pensa che tutte le cose che ci stiamo dicendo c'è una larga fetta della città che non le comprenderà? E non perché non sia in grado di comprendere, ma perché parliamo di cose che forse sono un po' lontane oggi. Dal sentire comune. Rispetto a questo che tipo di opinione è? L'opinione mia è quella che ho detto all'inizio. La gente è stanca. Stiamo parlando di cose desuete. Qua parliamo di punti programmatici, di rimpasti, di ingressi giunta. Alla fine di una consigliatura che ribadisco non è decollata e non decolla. Dall'altro lato la gente è disgustata. Perché la gente alla fine non chiede che Sciacca diventi Monte Carlo. La gente chiede alla pulizia che le strade siano sistemate. È diventato questo il bene della città. Cioè manca adesso il sogno. Cioè manca il guardare avanti perché la base non esiste più. E la cosa che mi dà fastidio è che molti paesi vicino di noi, a massimo rispetto, si trovano a superarci in molte cose. Quindi bisognerebbe probabilmente fare veramente squadra per raggiungere l'obiettivo che è quello di far rinascere la città. Però parlare di rinascita oggi mi sembra una cosa un po' da utopia. Per il semplice fatto che se non ci basiamo su un'idea che sia programmatica sul vero senso della parola, però c'è pratica più che programmatica, non andremo da nessuna parte. Ma lei non riconosce che oggi più di ieri, non lo so, non voglio dire questo. Insomma in questo 2020 oltretutto sia particolarmente difficile fare scelte politiche che possono anche connotare, caratterizzare un'esperienza amministrativa facendola quasi passare alla storia. Oggi voi intervenite su questioni che c'erano anche durante gli anni della vostra amministrazione e magari ci saranno anche domani. Come si fa a superare questo gap? L'altro giorno in una intervista ho visto che tu hai chiesto una cosa interessante, ci avete mai ipotizzato di mettervi tutti insieme? Ora, questo messaggio è un messaggio secondo me di unità generale che la città potrebbe anche recepire favorevolmente. Però è anche vero che se da un lato c'è il presupposto positivo di guardare all'orizzonte per sistemare le cose, dall'altro lato non deve passare il messaggio dell'ammucchiata per vincere le elezioni. Quindi bisogna stare attenti. Il rischio è questo. Perché il rischio è anche quello. Perché poi le immagini della vittoria dell'elezione dove tutti si abbraccino e si bacino passano alla storia, però dopo 15 giorni già... Però se vai su YouTube tu ti riguardi le vittorie dei vari sindaci, ti rendi conto di chi c'è accanto e ti rendi conto di quello che è successo alle elezioni successive e che è tutto ormai cambiato completamente. Io la penso, mi permetto di esprimere un'opinione, anche io la penso un po' come l'ex segretario generale del Comune Carmelo Burgio, il quale dice si dovrebbe fare una riforma elettorale in base alla quale maggioranza e opposizione con il sindaco si siedono allo stesso tavolo e prendono le decisioni di comune accordo. Ma questa è una visione meravigliosa che devo dire... Però è quella che permetterebbe di far passare un messaggio nei confronti dell'opinione pubblica che non si fa una battaglia di teatrino, perché alla fine il rischio è il teatrino, purtroppo è così. No, il rischio più che il rischio è poi una realtà dei fatti. Però bisogna costruire e bisogna trovare i presupposti anche per costruire il futuro. Io oggi dico rispetto al passato cosa si è fatto in questi due anni e mezzo, levando l'aspetto amministrativo della giunta del sindaco. Perché voi non avete mai digerito lo slogan, ma è più 5 minuti. Allora, quello è stato uno slogan secondo me inopportuno che credo chi abbia coniato, penso che l'abbia coniato il sindaco, ha azzeccato probabilmente per essere accattivante e per colpire in pieno. Dall'altro lato secondo me è molto scorretto perché alla fine nessuno può fare miracoli. Cioè oggi amministrare, diciamocelo chiaramente, di una difficoltà infinita, però è chiaro che si poteva evitare. Dall'altro lato dico che in consiglio comunale non si è trovato neanche colui che sapesse mediare tra le parti. Questo manca perché noi arriviamo lì e in automatico si deve innescare... Ma non c'è un assessore ai rapporti col consiglio comunale? C'è, c'è sempre stato, ci sono stati nel passato, però è capitato ad esempio che in determinate consigliature c'erano figure dell'opposizione, figure della maggioranza, che si rurimano e cercavano... Io ricordo i periodi in cui si doveva approvare l'ultimo bilancio, quello del 2017, quando ci fu a rischio il carnevale, che nel corridoio del secondo piano si muovevano i gruppi tra un corridoio e l'altro, si incontravano a metà per trovare la soluzione. E lì sta la politica, c'è l'arte della mediazione anche tra le parti, che in questi due anni e mezzo non c'è mai stata. Subentra poi magari il rapporto che uno può avere con un assessore, sia di carattere personale, diciamo vabbè vediamo come fare, però è mancato il ragionamento politico, io non sto dando colpe agli altri, dico semplicemente che tutti noi dovremmo guardare in ottica diversa. In questa visione bellissima ecumenica posso dirlo, d'altronde nel passato del teatrale di Sabato e Monde ci ha interpretato anche il prete. Perché questo rapporto così difficile, personale, con l'attuale assessore al turismo, Sino Caracappa? Ma io dico semplicemente che noi abbiamo avuto rapporti di carattere, intanto di amicizia che io non butto nella spazzatura, perché la politica è una parentesi e grazie al cielo si chiude. Abbiamo avuto rapporti anche di carattere professionale, abbiamo organizzato delle cose insieme, abbiamo collaborato, non nascondo che mi è dispiaciuto un po' l'atteggiamento che poi Sino ha avuto dal momento in cui è stato eletto, perché va detto anche, sveliamo un'altra cosa, che Sino ancora prima di essere nominato ha contattato alcuni consiglieri comunali, li ha incontrati riservatamente per anticipare questa notizia e per chiedere anche una disponibilità di massima nei consigli da dare in vista della sua partecipazione attiva all'amministrazione. Io lo incontrai all'Abbadia Grande e dissi Sino, è una scelta tua che io devo rispettare, è chiaro che sull'ambito dell'esperienza se tu verrai a chiedermi qualcosa io sarò ben lieto di dirti un po' come sono andate le cose, come funzionano, quello che si è fatto, quello che si potrebbe fare, da quel momento io non ho ricevuto più nessuna telefonata, se non qualche attacco poi di carattere satirico, ironico, poco ironico e poco satirico su Facebook, che ha disinnescato il rapporto di amicizia, però io non metto mai i limiti perché non sono un guerrafondaio, dico che alcune cose dispiacciono e che vanno risolte, però l'esperienza politica è una parentesi, bisogna salvaguardare quello che sta fuori la parentesi, se non salvaguardiamo quello non abbiamo capito niente. Ma Salvatore Monte potrebbe essere il prossimo candidato al sindaco del centro-destra? Questa è una battutaccia tipo di quella? No, 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 non vuole esserlo. Io dico semplicemente che in questo momento dobbiamo chiudere questa consigliatura come giusto che sia, credo che la prossima volta, a prescindere da chi dovrà ricoprire il ruolo del candidato, ma parlare oggi di candidatura è totalmente una follia, bisogna veramente fare un ragionamento a priori, a priori nella costituzione delle liste, a priori nella scrittura del programma, capire veramente quello che dobbiamo fare, perché tra i problemi che la macchina amministrativa ha, tra il Covid, tra l'altro, cioè noi rischiamo che questo paese possa veramente non emergere più e costringere molti di coloro che vorrebbero investire in città a andarsene fuori. Questo bisogna fare, bisogna salvare la città e se la città si deve salvare la si può salvare veramente insieme, ragionando insieme e mettendo da parte il manuale Cencelli che ha rovinato la nostra città per anni e tutti i vari filosofi che vengono citati da Prudom a Pro Bavaria, che servono a poco per amministrare una città, ci vuole praticità. In un momento storico in cui gli uffici sono a zero di personale e dove la manovalanza che in una macchina amministrativa sembra essere una cretinata ma invece è necessaria per tutto quello che si fa all'esterno è pari a zero, quindi bisogna riorganizzare. La verità è che anche nelle campagne elettorali bisognerebbe dire la verità all'elettore. Quello ne sono convinto. E non quello che l'elettore vuole sentirsi dire. Il fatto è che se uno dicesse mi candido a sindaco, farò quello che posso, non viene eletto. No. Però sarebbe l'unico che direbbe la verità. Direbbe la verità. Però sono convinto che adesso l'elettore è un elettore diverso rispetto a 15-20 anni fa perché la politica è cambiata, quello che poteva dare la politica alle persone non lo può dare più. Sicuramente è più trasparente la politica. E quindi c'è più trasparenza. Pare una cavolata, ma è così. E invece sono pure i segreti di Pulcinella. Vabbè Pulcinella, per caso ci posso mi seguire. Devo chiudere chiedendole un commento sulle iniziative possibili da fare. Siamo in un periodo di emergenza. Proprio oggi noi mandiamo in onda un'intervista con il governatore Musumeci il quale dice guardate che potrei di nuovo essere costretto ad attivare un nuovo lockdown. Sulla base di questo, la sua riflessione, lei che è ancora giovane, perché lei ha 35 anni, quindi sei uno che conosce anche le dinamiche giovanili. Qui si dà la colpa anche, ovviamente ci sono degli episodi di migranti che sbarcano, che sono positivi al coronavirus, ma qua non è che si può dare la colpa ai migranti e poi noi ci abbracciamo, ci baciamo, ci lecchiamo e partecipiamo alle feste, ai compleanni, ai diciottesimi, assembramenti e diamo la colpa ai migranti. Mi sembra un po' eccessivo. Qual è la riflessione e il consiglio? Ma intanto la riflessione è che secondo me c'è un'assenza di regole. Cioè nel senso che le regole cambiano, io lo vedo con il mio settore, che è un settore completamente ormai annientato in questo momento. Lo spettacolo è completamente fermo, quindi anch'io se vedo una discoteca con 1500 persone dico perché il teatro ogni due poltrono una persona e là non si pone il problema. Quindi dico che bisognerebbe trovare regole che siano uguali per tutte, che siano rispettate e che soprattutto riescano a garantire a tutti di vivere serenamente. Perché è chiaro che chi oggi vorrebbe fare teatro, chi fa la discoteca, sta portando il pane a casa ed è giusto che possa lavorare. Dall'altro lato dico però che andrebbero fatti dei controlli diversi, c'è vedere, ho visto i video da Lampedusa, mentre le persone sono al mare distanziate, vedere due o tre barconi che arrivano e fanno fiondare le persone. Io attenzione non sono razzista e non sono assolutamente uno che non ha rispetto per gli altri, però i controlli vanno fatti, non si può permettere a gente che arriva senza alcun controllo di, anche in questo caso potrebbero esserci degli asintomatici, di portare danno in un'intera regione. Dall'altro lato dico che bisogna stare attenti, quindi ai ragazzi il consiglio che do è di stare attenti. Noi abbiamo vissuto quattro mesi di inferno, tra mascherine, stare a casa, adesso tutto questo è quasi finito perché siamo convinti e questa è una cosa che va anche nella convinzione dei ragazzi che siamo immortali. Purtroppo non lo siamo. A proposito dei ragazzi, chiudo su questo. Quello che sta succedendo, che succede allo stazzone, una sera sì e l'altra pure, interventi delle forze dell'ordine, risse, denunce, arresti anche, abbiamo saputo recentemente. Il dottore Falco dice che nelle famiglie il ruolo genitoriale ormai si sta disperdendo. È una chiave di lettura, secondo me, molto corretta. La sua riflessione è quella? Che bisognerebbe trovare anche a questi ragazzi delle formule di divertimento un po' diverse. Secondo me ormai, e devo dire perché a questa città comunque va anche detto, io lo dirò sempre, lo dico da quando avevo 18 anni, è mancata la struttura che servisse ai ragazzi anche nel periodo estivo per potersi sbagare. Tutto quello che non avviene d'inverno arriva in automatico d'estate. C'è quasi uno sfogo naturale che c'è a febbraio col carnevale e d'estate con il periodo estivo che ti permette di stare fuori. Dall'altro lato, dico ai ragazzi, divertitevi in maniera diversa. Cercate di essere meno caldi, come si vuol dire, in questo periodo e di affrontare le situazioni in maniera diversa, perché per rischiare la vita o rischiare in questo caso anche di finire in determinati posti per delle cavolate è totalmente sbagliato. Dall'altro lato servono i controlli, come ho visto che comunque sono in campo. Dall'altro lato un genitore può fare quello che deve fare, però è anche vero che i tempi sono completamente cambiati. E anche il rapporto genitore-figlio è un rapporto diverso. Ne parlavamo l'altra sera con gli amici. Noi sbagliavamo e arrivava un colpo di cinque dita in 35 secondi e tu non fiatavi più. Però è anche vero che quando noi avevamo i nostri 18 anni sono i diversi 18 anni di oggi. Il mondo è completamente cambiato. Quindi bisognerebbe adeguare anche il tutto e anche il modo di comportarsi al periodo storico che stiamo vivendo. Grazie a Salvatore Monti. Grazie a voi. Grazie a tutti.